lo sapevi che nel 1409 mentre visitava la torre di feltre il podestà cadde senza farsi nulla si pensò che fu la grazia dei santi vittore e corona patroni della città vieni a scoprire feltre con la totem card puoi visitare il museo civico archeologico la galleria rizzarda il museo diocesano d'arte sacra le torri del castello e le antiche prigioni e scoprire tante altre storie di questa bellissima città altro giro